allora solare attesa perché l'abbiamo attesa tanto e alla fine siamo così contenti che abbia accettato il nostro invito simona sparaco ben arrivata ben arrivata sceneggiatrice scrittrice mamma b mamma b mamma ma arriviamo con calma dunque libri belli amatissimi venduti in tutta italia e tradotti in tantissimi paesi europei e anche in sud america giappone e russia nessuno sa di noi finalista premio strega se chiudo gli occhi ha vinto il premio tropeo il premio sereno libro d'europa il premio selezione bancarella l'ultimo romanzo è nel silenzio delle nostre parole vincitore del premio dea planeta ma il nome era simona sparaco no no e no e qua dobbiamo raccontare dobbiamo svelare dobbiamo svelare allora è una storia incredibile perché io due anni fa comincio a pensare al libro perché i libri prima arrivano nella mente piano piano li comincio a scrivere senza scrivere poi comincio a scrivere però il libro racconta una storia drammatica anche di madri e di figli e io scopro di aspettare un bambino allora mi fermo e dico non forse non è il caso di scrivere questo libro in gravidanza però secondo bambino il secondo bambino il primo è diego e il secondo che è arrivato inaspettatamente si chiama tommaso adesso a tre mesi appena con e un giovanotto di tre mesi un giovanotto di tre mesi e quindi questo giovanotto di tre mesi arriva e tu sai cioè uno dice non è possibile ecco lì vedo il primo giovanotto eccoci qua eccoci qua il primo capolavoro perché sono due capolavori ecco noi siamo abbiamo aperto parlando della grazia in questo caso parliamo della grazia dell'essere madre sapendo nutrire d'amore i propri figli prima durante e dopo no con grande capacità e quindi interrompo la stesura del libro però poi vengo e anzi comincio a pensare a delle favole per bambini perché sono in questa in questa dinamica e vengo a sapere che fanno la prima edizione del premio planeta in italia premio planeta e in spagna è considerato il pulitzer spagnolo con una storia di 70 anni quindi io dico beh sarebbe bellissimo poter partecipare non ho il libro pronto quindi sicuramente chissà quanto tempo avrò e mi dicono che la consegna la scada la scadenza del bando per consegnare il manoscritto è la stessa presunta del parto identica 28 febbraio io rimango così e dico sarà un segno sarà un invito a dire fatti coraggio scrivilo perché un libro che parla di madre e di figli prima di diventare madre per quanto io poi nei miei libri cerco sempre di dare un senso alle cose di darmi delle risposte e quindi forse questo 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 fuoco perché un libro che anche del fuoco lo dovevo attraversare e riesco a finire il libro e a consegnarlo insieme al mio bambino perché praticamente è un doppio parto allora i più i più attenti tra voi se il primo bimbo si chiama diego e il secondo tommaso e il libro viene presentato con lo pseudonimo diego tommasini e attenzione l'autore senza baffi e simona spara come poteva non vincere abbiate pazienza c'erano proprio tutti gli estremi tutti 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 gli estremi a posteriori mi dico anch'io che era lì per lì io pensavo anzi col fatto che adesso il bambino è così piccolo e che questo libro sta andando così bene quindi mi chiedono di andare un po in giro per l'italia adesso dico è incredibile che ce l'ho fatta davvero ma lì per lì neanche ci speravo e ci pensavo dicevo provo allora per quanto riguarda questa una comunicazione per la regia alla foto di prima aspettate un attimo teniamo questa di fotografia perché è la foto che ho visto in precedenza che ho visto prima che potesse arrivare in onda nelle vostre case voglio arrivare con un po più di calma allora questo libro pensa simona ci ci tocca ancor più da vicino intendo dire perché l'incendio della granfield tower di londra il 14 giugno del 2017 ecco noi l'abbiamo sentito addosso perché sono stati i nostri ospiti amatissimi i genitori di marco gottardi che con gloria trevisan è morto questi questo padre e questa madre meravigliosa intesa nel senso della meraviglia che noi abbiamo provato e che tu traslando le storie in un altro luogo e rendendo le diverse però riesce a narrare in questo libro cioè tu scrivi non c'è morte che non presupponga una rinascita imparare a decifrarla può dare senso a tutto ciò che resta persino alla cenere ora è un fatto importante quello che tu hai realizzato perché tu stavi dando per la seconda volta una vita e parli della tenacia della vita anche anche quando si trova di fronte alla morte sì perché c'è un momento in cui quando la vita e la morte si si arrivano proprio a sfiorare quasi si confondono in quel momento lì l'amore vince è un amore che non necessariamente deve legare un genitore un figlio è un amore è l'amore per la vita è l'amore è l'amore per quello che resta e questo era una grande prova per me perché appunto aspettavo un bambino e questa era una storia dolorosa l'avevo interrotta però sapevo che dovevo portarlo a termine dovevo riuscire prima prima di questo di questa nuova avventura dovevo farlo prima era come una sorta di catarsi per me questo libro l'hanno definito tutti gli attori che adesso mi scrivono catartico perché è vero che parla di un dramma però però le storiate leggetelo perché tutte e lo state leggendo è un libro che ovviamente viene viaggia con il con la giusto il giusto riconoscimento che deve avere perché c'è bisogno che qualcuno più bravo di noi a raccontare i sentimenti li racconti per come noi stiamo provando perché a volte i palazzi bruciano dentro di noi simona passiamo per dei periodi della nostra vita in cui brucia tutto e ci sentiamo persi e crediamo di non riuscire più a parlare con i nostri genitori né che i genitori riescano più a parlare con i propri figli e tu racconti invece una questo è un romanzo sulle anche sulle distanze perché proprio un palazzo che poi è il simbolo dei nostri tempi questa vita verticale dove tutti sono incastonati uno sull'altro e poi non si parlano più non si non si conoscono più miei personaggi all'inizio del libro non sanno davvero chi sono i vicini di casa chi sono i genitori c'è una distanza una distanza che un po in qualche modo è anche raccontata come una distanza sociale perché sono tante culture quelle che si incontrano nel mio palazzo che rappresentano è stata definita sì per fortuna perché forse in qualche modo il corriere della sera l'ha definito un romanzo europeo non era nelle mie intenzioni lì per lì ma poi adesso so che ho scritto qualche cosa perché volevo raccontare delle distanze che si devono abbattere tra le differenze e la convinzione di essere diversi anche tra genitori e figli all'interno di una stessa famiglia pensi mio padre non mi può non mi può capire perché sono passati tanti anni da quando lui aveva la mia madre non può capirmi stessa cosa la pensano i genitori a volte no in realtà si sentono non capiti sembra sempre che loro abbiano il coltello dalla parte del male che invece a volte sono quelli che si stanno ferendo con la lama perché non perché sono loro che si sentono invecchiati non capiti non compresi i figli non sanno di fargli del male ma c'è in questa catarsi perché il fuoco brucia distrugge ma purifica c'è tanto nel tuo libro di questa possibilità di ritrovare ora si fa una specie di giuramento quando si presentano i libri non bisogna mai chiedere all'autore cosa c'è di autobiografico nel suo libro e io invece improvvida casco con questa domanda cioè nel senso la simona figlia perché per la simona mamma insomma sono ancora troppo nonostante diego l'accompagni firmi cuori scriva cuoricini sulle dediche va bene ragazzo come si è incrociata la tua storia di figlia non è quella a sinistra con gli occhiali in testa non è simona è sua madre che è identica identica lei è quel batuffolo rosa al fianco e con mamma amelia e no come la mamma dice sempre ma nei tuoi libri le mamme sono sempre cattivissime ma che t'ho fatto e io gli dico mamma non è vero noi scriviamo attingiamo intanto a un universo quando scriviamo abbiamo bisogno a volte anche di esorcizzare le nostre paure io con mia mamma sono molto legata anche con mio papà ho una famiglia molto forte alle spalle sono stati il mio cuscino nei momenti di difficoltà e sono il mio cuscino anche quando scrivo perché pure quando racconto cose apparentemente lontane da noi io sto dando voce anche alle mie paure al mio bisogno di trovare delle risposte a proprio a quelle paure per farmi coraggio forse per questo scritto questo libro prima di diventare mamma dovevo trovare un nuovo coraggio per affrontare una nuova avventura ripeto nel momento in cui stai costruendo una vita perché questo fanno le mamme meravigliose e questo libro parla di di un silenzio all'interno delle parole e vedrete le storie sono così diverse tra loro così belle così forti così forti da arrivare però poi tutte quante ad un punto che non è il finale ma è l'alba è la luce è la rinascita e noi lo chiameremmo tirando brutalmente l'acqua al nostro mulino l'ora solare e di questo di questo libro di simona spara con la quale in realtà era stata già nostra ospite senza essere presente perché quando franca fendi è stata con noi per raccontarci la sua meravigliosa storia d'amore nel libro sei con me edito da rizzoli quel libro lo ha scritto sostanzialmente simona eccoti qua vediamo con con franca fendi è stata un'esperienza incredibile anche questa perché tu sai parlare d'amore tu ne sai proprio parlare simona dicono così dicono io parlo da lettrice e sì a me piace l'amore mi piace raccontarlo perché lo contiene tutto tu sei una donna che contiene l'amore io io spero di sì sì comunque franca mi ha insegnato anche un altro modo di vedere l'amore l'amore proprio che supera la morte perché franca ama quest'uomo ama luigi come se fosse ancora lì con lei e io all'inizio quando mi sono avvicinata alla sua storia ero anche scettica perché dicevo ma può davvero un amore superare tutte queste prove franca è stata la dimostrazione allora ci sono delle mamme cosa fanno le mamme fanno il tifo per i loro figli questa mi sembra un'equazione perfetta è una regola matematica c'è stata una mamma che non c'è non c'è non si vede che a furia di dire fai bei sogni e a furia di continuare ad augurarglielo da un un altro dove che che esiste ha fatto sì che suo figlio il grandissimo massimo gramellini a furia di fare bei sogni ha aperto gli occhi e ha trovato simona perché signori una storia d'amore così bella io francamente ne ho letti tanti di libri ma nella verità non l'aveva ancora trovata perché massimo gramellini si merita si merita simona sparaco io mi commuovo perché per me massimo è davvero un uomo incredibile ed è stato proprio il regalo che mi ha fatto la vita quindi lo è ma voci fuori dal coro in questa cosa bellissima che simona ha detto garantiscono che la vita è una mamma che ha fatto il tifo hanno regalato a massimo gramellini simona sparaco e tommaso guardatelo così si è presentato al mondo dopo lo sbarco della regina elisabetta su instagram mi son fatto coraggio anch'io questo è il mio profilo ufficiale lo inauguro insieme a mio figlio tommaso benvenuti allora la vostra storia d'amore aspettiamo di mangiare confetti eh sì al più presto e simona sparaco grazie grazie a te continuo così non ti fermo a te faccio questo grandissimo regalo allora grazie lo facciamo vedere ancora nel silenzio delle nostre parole al trucco mi aveva detto non farmi piangere e io cattivissima ci sono riuscita forse perché le voglio bene ci vediamo tra un attimo l'ora solare simona sparaco vincitrice del premio dea planeta nel silenzio delle nostre parole grazie grazie grazie